L'avvio a conclusione del raduno delle vere d'epoca anche quest'anno è stato contrassegnato dallo spettacolo dei fuochi artificiali del sabato sera. Migliaia di persone come sempre hanno affollato non solo Borgo Marina e Calatan Sermi, ma anche molte zone della città per armirare i fuochi delle vele sparati nel bacino portuale di Porto Maurizio. La conclusione dello spettacolo pirotecnico è stata salutata dal tradizionale fischio delle sirene e delle navi in porto. La giornata domenicale per il raduno di vere d'epoca d'imperi ha visto la conclusione dell'evento anche con la grazia da parte del meteo che ha consentito di svolgere il programma senza intoppi. La domenica si è aperta dalla tradizionale parata delle signore del mare che hanno sfilato nel bacino turistico di Porto Maurizio. La giuria ha assegnato il premio per l'eleganza in parata a Stella Polare, imbarcazione della Marina Militare che opera nell'ambito degli sport velici della Marina e anche come nave a scuola per i futuri ufficiali. Subito dopo la parata le vele sono tornate a prendere il mare per affrontarsi nella terza e ultima regata resa molto impegnativa dalle condizioni del mare con onde che hanno raggiunto anche il metro. La gara in mare coordinata dalle yacht club di Imperia si è comunque svolta senza alcun problema e con un solo ritiro. Nel tardo pomeriggio di domenica il palco di Calatanselmi ha ospitato la cerimonia di premiazione per gli yacht Big Boats, primo posto per Halloween, secondo per Twiga, portacolori del Principato di Monaco e terzo per Monbi in quarto. Negli yacht Epoca Aurici, primo Cips, secondo Mai Fanway e terzo Lulu, yacht d'Epoca Marconi 1, Anne-Sophie, Jour de Fette e Windover, yacht d'Epoca Marconi 2, Skylark, Emilia e Oiseu de Fe, yacht classici 1, Sagittarius, Mai Più e Mio Mao settimo, yacht classici 2, il Moro di Venezia, Ea e Corsaro 2, yacht Spirit of Tradition, primo Midwa, secondo Clara e terzo Sanda. Yacht, yacht Nior, Sagittarius, il Moro di Venezia e Miss K IV. Terminata la premiazione, il raduno delle vere d'epoca si è ufficialmente concluso con il tradizionale Ammaina Bandiera e la rivederci al prossimo anno.